Salve a tutti, buon tutto. Allora, per me oggi non è una festa. Per me è giorno triste. Triste per me. Non solo perché fa brutto tempo e piove, dove abito io, ma perché io sono disoccupata e disabile, parziale, al 75%. E quindi voglio dire a tutti che per me i lavori online senza investimento di soldi, quelli che voi chiamate cavolate, per me sono vita, campare. Se mi fate lavorare, se mi fate lavorare tutti i giorni, perché non esistono feste per i lavori online senza investimento di soldi. I miei gruppi di guadagno su Facebook sono sempre aperti 24 ore su 24. Quindi potete andare a leggere le spiegazioni, potete vedere il link invito, dove ci sta il link invito. Perché ci sono alcune app che non c'è il link invito. Ecco, una per il momento. E voglio dirvi che per me non sono un divertimento i lavori online senza investimento di soldi. Non sono, come si dice, un passatempo. Sono un motivo per fare soldi. E come li posso fare soldi? Solo con voi, con voi persone, 365 giorni all'anno. Non supporto quelle persone che mi vengono a cercare proprio il giorno della festa dei lavoratori. Il primo maggio. E mi fanno gli auguri. Perché mi fate gli auguri? Non c'è motivo per farmi gli auguri. Perché non è la mia festa. Non è la mia festa. Io non mi rispecchia in questo momento. Mi rispeccherebbe se guadagnassi abbastanza soldi online. Attraverso voi persone. Perché a me servono le persone per guadagnare. Servono le persone. Perché io non propongo lavori con investimento di soldi. Non faccio soldi facili da sola. Ok? I soldi si devono fare coinvolgendo le persone. A fare la stessa cosa. La stessa identica cosa che una propone. Come il ref. Dovete capire questo, gente. Se non capite questa cosa qua. A me non mi fate lavorare. Non mi date retta. Non mi credete. E se non mi sento creduta, io mi arrabbio. Perché io sono una persona affidabile. Devo sentirmi creduta. Invece di leggere commenti di persone su un forum che ho trovato online. Che si lamentano molta gente. Si lamentano che viene fregata da quelli che li fanno investire sulle criptovalute. Sui bitcoin. Sui trading. Sui trading. E poi viene truffata. E poi vengono a piangere sui forum e su internet in generale. Dicendo ma come faccio a riavere quei soldi. Ormai ve salutano quei soldi. Ve salutano. Perché ormai ve l'hanno fregati. Perché voi siete stati polli a crederci. Avete agevolato più quei lavori lì. Avete fatto arricchire quelle persone che propongono i trading. E minare bitcoin. Le criptovalute. E non avete fatto guadagnare chi davvero vi propone lavori senza investimento di soldi. Online. Perché non avete voglia di lavorare. Di guadagnare coinvolgendo altre persone. E cercate sempre lavori dove non dovete coinvolgere persone. Pure. Ho notato. Perché non avete proprio voglia di faticare. Invece io tutti i giorni. Tutti i giorni e tutte le ore. Cerco in qualche modo di fare qualche contenuto. Anche su youtube. Perché c'è un modo per guadagnare anche su youtube. Come? Creando un canale che si mette il proprio volto. La foto del proprio volto nel profilo. E nome e cognome sulla chiocciolina. E sotto la chiocciolina. E l'anno di nascita e l'età. Perché così le persone vi possono credere. Secondo me. Perché mi sono sentita dire. Da una persona su youtube. Che le persone come me. Che si mostrano. Che sono trasparenti. Sono quelle persone che fregano. Che truffano. Invece no. Io non sono una truffatrice. Io non ho mai truffato nessuno. Ecco. Io mi piace essere onesta. E come? Facendomi vedere. Ecco. Facendomi vedere. Però almeno io. Perché non truffo nessuno. Perché non chiedo soldi a nessuno. Per iniziare un lavoro. Perché è un vero lavoro. Se si deve guadagnare soldi. Quando si va in un'azienda. Per esempio. Vi chiedono soldi. Per iniziare a lavorare. No. E allora. Fate conto che siete in un'azienda. E che dovete guadagnare sudandovi soldi. Con i lavori online. Senza investimento di soldi. Ecco. Fate conto che siete in un'azienda. Che vi hanno assunto. Ecco. Mi fanno solo firmare un contratto. Vabbè. Con i lavori online. Senza investimento di soldi. Non c'è da firmare un contratto. Il lavoro c'è sempre. E' sempre. Libero. Ecco. E' gratuito. Ecco. Vabbè. A volte ci sono fregature. Che non ti pagano. Certe app. Però a volte ci sono delle app. Che testandole. Pagano. Ecco. A volte possono pagare. In modo istantaneo. A volte invece bisogna aspettare. Qualche oretta. Però vi pagano su paypal. Perlomeno. Ecco. Quindi. Non dite che. I lavori online. Senza investimento di soldi. Sono tutte fregature. O perché si deve arrivare a una soglia. Eh. Per forza si deve arrivare a una soglia. E così. Il lavoro. Però per arrivare più velocemente. A questa soglia. Bisogna essere tutti attivi. Tocca formare una rete. Una rete. Di persone. E queste persone devono fare la stessa cosa. Di quello che ho spiegato. Nei miei gruppi di guadagno. Su Facebook. Ecco. Semplicemente questo. Sono lavori semplici. Da capire. Da capire. E da fare. I lavori online. Senza investimento di soldi. Lo possono fare. Tutti. Tutti. Maggiorenni. Tutti. Soprattutto i maggiorenni. Perché. Ci sono i soldi di mezzo. Ecco. E bisogna aprire un conto paypal. Che è gratuito. Va bene. Che è gratuito. Online. Però. E' sempre un conto paypal. Che bisogna associare. Una carta prepagata. Per sicurezza. E mai. Quella del conto corrente. Mai. E' un consiglio che vi do. Mai. Ecco. Quindi. Ascoltatemi. Per favore. Non fatemi gli auguri. Del primo maggio. Non fatemeli. Fatemi il saluto. Buon tutto. Semplicemente. Basta. Ecco. Ciao a tutti. Buon tutto.